È una legge molto semplice, cioè andiamo a modificare quello che è il vigente piano regionale dei rifiuti che risale al 2007 perché questo governo regionale non ha ancora approvato il nuovo limitando e quindi escludendo la possibilità di impianti di incenerimento sul nostro territorio. È una legge importante in difesa dei cittadini dalle politiche energetiche del governo Renzi che sono preistoriche, mi viene da dire. È una legge importante perché è chiaro che in un paese moderno, in una regione moderna incenerire rifiuti non è più accettabile, abbiamo tutte le conoscenze scientifiche, tecniche per evitare l'incenerimento che gli scienziati e gli studiosi ci dicono essere dannoso per la salute umana per cui noi crediamo che mettere le mani avanti prima dell'approvazione del nuovo piano regionale e lanciare un segnale a questo governo regionale sia importante per i cittadini. C'è un rischio della costruzione di nuovi inceneritori nella nostra regione? Beh, c'è una possibilità. Io in agosto, come ricordavo, ho lanciato questo allarme per cui è evidente che il governo Renzi sta pensando a queste ipotesi di gestione dei rifiuti che secondo noi sono assolutamente antiquate e tutelano né l'ambiente e né la salute dei cittadini. Per cui il rischio c'è, però adesso siamo in una fase assolutamente preliminare per cui mettiamo le mani avanti, diciamo no agli inceneritori, non succederà come ombrina che ci diranno che siamo arrivati troppo tardi, adesso siamo in tempo per non farlo e chiediamo al Presidente D'Alfonso di non fare gli inceneritori in Abruzzo.